Ciao a tutti, benvenuti per questa nuova puntata di le mie sensazioni, la mia recensione, le curiosità, insomma tutto quello che più o meno sono riuscito a carpire in questa prima e seconda visione del capitolo 13 della serie tv The Mandalorian. Come l'altra volta cercherò di andare all'assunto, anche se la settimana scorsa ci ho messo 20 minuti, spero di metterci di meno anche perché fra pochissimo devo essere a casa, per cui devo correre. Allora, innanzitutto la bomba totale atomica, mi raccomando spoiler, spoiler totale, per cui se non l'avete visto levatevi e aspettate di aver visto la puntata per rivedervi questo video, questo video che è uno dei tanti videi, arriviamo adunque. Molto bene, allora, questo capitolo parte subito col nome che è una gran smartellata nella faccia, cioè si chiama The Jady, sappiamo che Din Djarin deve andare su Corvus per incontrare Asso Catano, per cui uno più uno fa due e che ci sarà Asso Catano. Ma chissà quando arriverà, niente, comincia la puntata, dopo cinque minuti slappe pacconi spavate a destra e a sinistra con Asso Catano che è una patata incredibile, è rosario d'osono, è aranciono, c'è i lecchi, sono un po' più piccoli ma c'è sempre il lecchi, il costume è molto simile a quello di Rebels, è anche un po' simile a quello di Rebels, del Clone Wars, insomma, il progetto, la trasformazione da serie animata a live action funziona più o meno come quello di Bo-Katano, per cui il personaggio è assolutamente riconoscibile, è lei, arancione, i tatuaggi, è lei, punto e basta, logicamente qualcosina di cambiato c'è, per esempio i lecchi sono un po' più piccoli, non si capisce se è per la vecchiaia, non si capisce se è per la comodità dell'attrice di interpretare il personaggio. Bene, inizia subito, gran svlappe, pacconi, veramente, come dicevo, spadate, lei e le lacceber che abbiamo visto in Rebels sono bianche, una più corta, una più lunga, come siamo abituati a vederla, per cui il flash è immediato, dopo due minuti siamo già abituati. La scena d'azione è molto bella, si svolge in questa Corvus che è un po' diraniata, è molto bruciata, ricorda tantissimo Mustafar all'inizio di Episodio 9, dove abbiamo Kylo Ren che spacca la testa, tutti questi qua con questo melone gigante che sembra un piatto da couscous, arriva, bim, 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 arriva in questa sorta di castello che sembra, è molto medievale come prima parte, c'è queste mura, ci sono queste mura enormi, con questa sorta di arco enorme, con questo campanone sopra che quando suona è una bomba atomica, e chi vediamo, vediamo Michael Biehn, finalmente lo vediamo, lo sapevamo da mesi che si sarebbe stato, e interpreta praticamente un cacciatore di taglie al servizio di questo nome, non me lo memorizzerò mai, al magistrato bastardo, perché in realtà non è di diritto il magistrato di questo Calodan, la cittadina che ci ha già nominato Bo-Katan due capitoli fa, un capitolo fa, cioè non quello scorso, quello prima, che si chiama esattamente Morgan Elsbeth, dopo parleremo anche di lei. Praticamente lei gli dice, allora liberate questi prigionieri, non si capisce bene di quale di là, il magistrato gli dice, che cazzo vuoi, che cazzo non vuoi, spacco la testa, ne sacrifico uno, si rompe ancora il minone, ne sacrifico cento, per cui lei ride, ma tutta questa scena iniziale è di una potenza incredibile, è bellissimo, è bellissimo, ho fatto dei salti in continuazione. Comunque, vabbè, gli dice, torno domani, no, a Socatano gli dice, torno domani, vediamo di metterci a corda, se no qua spacco la testa, perché tanto sappiamo a Socatano che due maroni grandi come una casa. Per cui, cambio, vediamo di nuovo Din Djarin insieme al bambino, che sarà il bambino, il trovatello, il piccolo, ancora per molto molto poco, arriva verso, appunto, Corvus. Da lontano è un pianeta un po' bruttino, ci sono parecchi scie di lava, che sono fiumi di lava, insomma, non è proprio un pianeta boscoso come ci immaginavamo, cioè non è proprio Endor, è una sorta di Endor bruciato che ricorda Mustafar, per cui è abbastanza cupo come cosa. Molto bene, arriva Din Djarin a terra e mentre a terra vediamo questo cittadino, questo villaggetto che si chiama Kalodan, in cui uno di questi soldati, non so come chiamarli, non abbiamo un nome, che fanno praticamente la ministra, i soldati di questo magistrato spietato, ha uno dei controlli che abbiamo visto anche in A New Hope, quando sono su Yavin 4, vi ricordate il Rebel Trooper quando partono gli X-Wing che punta questa sorta di camera, di sensore? Vediamo la stessa cosa, per cui citazione già che a me mi ha fatto sbordolare subito. Bene, Din a terra, prende su il piccolino, se lo mette in saccoccia e va verso Kalodan per chiedere informazioni su Asso Catano, dove poterla trovare? Quando arriva viene, logicamente, tutto chiuso, per cui in sicurezza, qui l'atmosfera è veramente cupa, è molto bello, è molto distante da quello che abbiamo un po' visto adesso. Ricordo un po' Nevaro, ricordo un po' Mustafar, ricordo un po' Game of Thrones, molto Game of Thrones come atmosfera, la fotografia è bellissima. Michael Bindi dice che cavolo vuoi, vieni dentro, che va bene, ok, ho capito, sei un cacciatore, sì, Din Djarin è molto furbo, non si spiega esattamente cosa deve succedere, però, insomma, cosa deve fare? Entra, dice che ha caccia, eccetera, eccetera. Fa un giro per strada, vediamo che la situazione non è delle migliori, la gente scappa, si nasconde, non vuole parlare, insomma, è molto cupo, sia a livello estetico, sia a livello emotivo. Chiede un paio di informazioni alla vecchia che non lo caga pari, si infila nella casetta e alle spalle vediamo uno dei droidi, uno, il droide torturatore che era nel palazzo di Giabba, che è 8 di 8, che cammina, tutto bello massacrato, è molto veloce, ma c'è, molto figo. A un certo punto arrivano questi due soldati della milizia, che sono molto trilogia secolo, se vogliamo, con queste maschere, anche abbastanza semplici, non sono poi complicate, questi fuciloni della Madonna, che me lo sono segnato, sono A350, blaster A350, potrebbe essere l'evoluzione dell'A300, anche se sono un pelo diverso con la doppia cana, mandiamo oltre. Il magistrato, sì, viene convocato dal magistrato, entra nel palazzo del magistrato ed entriamo e vediamo una roba totalmente diversa dalla sensazione medievale, ma siamo in un Giappone feudale, stratosferico. I laghetti, lei che dà da mangiare a questa sorta di questi mostri, non si vedono bene come se fossero delle carpe coi, il fiumicello, i laghetti, tutte le piante, insomma, è una roba giapponese fatta e finita. E qui da Game of Thrones passiamo immediatamente ad Akira Kurosawa, immediatamente, per cui già strippo, io sono già impazzito perché citare Akira Kurosawa, quando nel 1977 è stato uno dei più grossi ispiratori di George Lucas, mi ha emozionato tantissimo, molto figo. Praticamente ci mettono d'accordo, il magistrato gli chiede a Dean Jarrin, se è un caccettore d'Italia, sì, spacca il culo perché c'è il Beskar, se è un mandaloriano incassato come una pantera, mi vai a beccare a Soccatano perché schianta la minca. E se ce la fai, lui dice, io però costo un botto, io però costo un botto, lei va indietro, prende una lancia fighissima, gli dice, ti do questa, come dire, che fai, un Jedi per una lancia, la sbatte per terra, fa questo rumore metallico più unico che è raro, meraviglioso, non la sbatte per terra, sbaglio, questo viene dopo. Dean Jarrin prende la lancia, si sbatte Beskar contro Beskar e dice, cazzo di Beskar, puttana, e fa un suono metallico che è meraviglioso e unico. È un suono metallico ma ha un forte rimbombo e un forte suono, per cui bellissima questa cosa. Fa molto, ma molto, ma molto ridere perché, se vi ricordate, Pedro Pascal è Oberyn in Game of Thrones e ha sempre questa lancia, per cui secondo me è una sorta di scherzo gioco che ci hanno voluto riservare. Molto bene, lui accetta, non dice un cazzo, in realtà lui la sta cercando ma ha capito che gli conviene fare il furbone, se ne va, Michael Biehn, ancora non so il nome, probabilmente c'è già ma non l'ho ancora cercato, gli guarda il piccolino, vede che c'ha Baby Yoda in saccoce, dice lui che cos'è, lui fa il mio portafortuna, molto bene, ti servirà perché sta andando dove è la Jedi. Glielo dice il magistrato ma non lo sentiamo noi, per cui lui si infila in questo bosco mega tetro, bruttissimo, tutto bruciato, sono tronchi eccetera eccetera, ad un certo punto vediamo il Morai, il Morai è il gufetto che in realtà ha un altro nome, me lo sono segnato, che è un Convor, in pratica all'interno c'ha lo spirito della figlia, se non ricordo male, è una roba molto particolare, credo che sia in Rebel riguardo alla forza, la religione della forza, è una roba molto intensa, ve la lascio scoprire con la serie Rebels e lo vediamo appollaiato, ma in realtà vediamo su una seconda maniera, ma è appollaiato su uno dei rami, per cui capiamo che da lì a qualche seconda arriva Ahsoka, cominciano a fare slappe, il mandaloriano si difende con i bracciali, perché Beskar, Beskar contro le spade d'Asia non fa un cazzo eccetera eccetera, fermati, no no no, non prendermi a slappe, fanno due o tre trick molto carini, no io sono venuto perché te mi ha mandato Ahsoka Tano, Bo-Katan, ho bisogno di te, molto bene. E lei gli dice, probabilmente sei venuto a me perché indica il piccolo che non è ancora il piccolo. Abbiamo un paio di scene memorabili, mi sono commosso più volte, veramente intense perché so tutto quello che c'è dietro, infatti secondo me una non fan, uno non fan, non si potrà godere questa puntata come ce la siamo goduta noi, oltre misura. In pratica si scopre che lei riesce a parlare finalmente con il piccolo e scopriamo un nome, per cui da oggi Baby Yoda non esiste più, perché il suo nome è Grogu, si chiama Grogu. A me sta cosa mi ha fatto ridere dentro tantissimo perché è un patetino, come ti capito? Grogu! Ah! Cioè non Fuffino, Pluppetto, Cicciottino, come chiama? Grogu! Cioè sto nanetto, Gro, Grogu! Faceva un po' ridere, un po' Rexolo, Grogu, ciao, sono cantante di un gruppo death metal, sicuramente cresceva. Comunque, scopriamo così, lei parla, vi racconta tutta la storia, scopriamo e scopriamo finalmente alcune delle nostre teorie di Empira, di Manuel, che ci ha preso perfettamente, lui faceva parte della scuola che era a Coruscant quando abbiamo visto gli eventi di Ravenge of the Seat. È stato preso da qualcuno, non ci ha dato saperlo, secondo me la sensazione è che non scopriremo neanche mai questa cosa, è stato salvato e poi la sua memoria è un po' svanita, è tutto molto triste questa cosa. Alla fine scopriamo che lui gli dice, io te l'ho portato a te, tu lo devi addestrare, lei gli dice, non lo posso addestrare, bla bla bla, perché? Perché? Non si può, perché? E c'è tutta la pappardella, fighissima, che anche dire pappadella è un po' mancarlo di rispetto, che gli dice, guarda, io il migliore di tutti, che era Anakin Skywalker, non lo dice ma lo sappiamo, purtroppo è stato addestrato quando era bambino, era troppo tardi ed è diventato quello che è diventato. Questa cosa è molto emozionante. In più, Din Djarin gli chiede che cos'è la forza, lei glielo spiega usando le stesse identiche parole che usa Obi-Wan quando spiega la forza di Luke. E lì, altre lacrime, è molto bello, tutta questa parte qui vale tutto, è un incrocio tra New Hope, l'impero colpisce ancora, lei dice Yoda, ne ha visto un altro come lui ed è Yoda, è anche lì commozione, insomma, è tanta tanta roba. Alla fine, la cosa divertente è che non è più Din Djarin che deve fare una quest, ma è Din Djarin che lancia una quest ad Ahsoka e gli dice, senti, facciamo così, io ti aiuto, no, com'è, non mi ricordo, praticamente gli fa una sfida a lei, se io ti do la mano a sistemare questa cosa qui, tu addestri Grogu e lei accetta. Ok, perfetto. Decidono, finalmente, questa l'ho fatta a corta, ma è la parte più bella, secondo me, in assoluto del coso, vediamo, poi successivamente, il giorno dopo, lei prova ad addestrarlo, ed è qui il discorso che gli fa, ho mischiato un po' le cose, gli dice, non posso addestrarlo, perché è troppo legato a te, c'è troppo amore tra voi due, e infatti lei prova a lanciargli un sasso con la forza, lui non lo prende, bla bla bla, eccetera eccetera, mentre c'aveva il pomello che all'inizio aveva staccato con la forza per giocarci, il grugulino piccolino, e alla fine capisce Ahsoka, infatti diventa un po' seria, perché gli torna in mente Anakin Skywalker e la sua crescita, per cui è lì che dice, no, io non posso addestrarlo, non ci penso manco per i maroni, perché già è successo sto disastro con Darth Vader, figurati se mi ci metto con uno che potenzialmente potrebbe anche essere più potente, per cui no, io non l'addestro, e dopo gli si mettono d'accordo. Passiamo al giorno dopo, anzi, o il pomeriggio, o quello che è, Grogu viene lasciato nell'astronave, nella Razor Crest, e loro vanno verso il villaggio, non loro, ma va a Soka, salta su dal cancellone, prende aslato e pacone un po' di roba, è bellissima anche questa scena, taglia in due la campanaccia, e qui comincia un film giapponese di arti marziali, con quest'atmosfera, con questo vento che soffia, e c'è anche un bel po' di Sergio Leone in questi duelli, uno di fronte all'altro, tantissima, tantissima roba. All'interno di questo Kalodan troviamo anche dei Lot Gatti, Lot Gatti è una creatura che è molto presente in Rebels, per cui è un gattone, abbiamo già visto anche nella puntata del capitolo 5, se non ricordo male, quello quando sono quegli spots, che è dove c'è la TST, prosegue, a un certo punto sta, il magistrato sta per giustiziare, tra l'altro ci sono dei galeotti, qualche poveraccio che è stato preso, è stato arrestato, che sono messi davanti alla gente, come un po' nel medioevo, dentro le gabbie elettriche, per cui anche questa cosa mi ha portato molto a qualcosa di medievale, di torture medievali, per cui è un incrocio tra l'Western, il Medioevo e il Giappone feudale, molto figa come atmosfera, lo ripeto. Molto bene, cominciano a darsi un po' di slappe, a So Catano è mega figa, gli fanno tutte queste inquadrature, di vedo, non vedo, di sparisco, di tiro fuori la spada, di taglio, tutto molto figo, non ve lo sto a raccontare perché non serve, guardatevelo. Nel finale ci sono, a un certo punto, Michael Biehn, che è il capo della milizia, cioè il cacciatore d'Italia soldato dal magistrato, è davanti a Dean Jarrin come alla seggio leone e dietro si accorge che c'è Asoca, allora gli dice, ah quindi, voi siete d'accordo, molto bene, ah sì sì, bene, bene. Asoca va dentro al palazzo per affrontare il magistrato, mentre fuori dal palazzo rimangono Dean e il cacciatore d'Italia. Vi ricordo che Michael Biehn è uno dei protagonisti di Aliens Controfinale e di Terminator, cioè è il babbo di John Connor, non è proprio l'ultimo arrivato, per cui anche questo è un grande ritorno di un personaggio in 80. L'unica cosa che, secondo me, viene un po' presa in maniera superficiale, avrei voluto vedere un po' più, qualcosina di più, sembra proprio, cacchio ti voglio fare fare una parte perché sei Michael Biehn, però, insomma, secondo me poteva essere sviluppato un po' meglio come personaggio. Vabbè, chiudo qui, l'unica forse goccia in questo mare meraviglioso di godure infinita. Due duelli, in realtà, da una parte si affrontano con le mani vicine alla pistola, è estremamente Sergio Leone, ma a livelli stratosferici, mentre dentro è un vero e proprio film di samurai giapponesi. Si affrontano, molto figo, spada Beskar contro, scusatemi, lancia Beskar contro doppio light saber, bim bom, bim bom, bim bom, la tipa, il magistrato, riesce a togliere la spada più lunga, lei affronta con la spada più piccolina, tra l'altro con la sua mossa classica, per cui è studiato nei minimi dettagli, riesce a disarcionarla, che non si dice disarcionarla, ma gli riesce a togliere la staffa che cade per terra, si sente il suono, bellissima scena, Michael Biehn capisce che ha perso, mette giù il fucilone, ma mentre mette giù il fucilone sta per prendere la pistola, a dingiare proprio alla biondo di Clint Eastwood, bim, gli spara, lo uccide, si gira mentre vede il vecchio magistrato, che lo scopriamo dopo, e arriva un altro droide, un altro droide, perché aveva, il magistrato aveva, il magistrato, le dislessie sono stanco, aveva due droidi alle spalle molto fighi, che erano HK, me lo sono segnato perché non mi viene mai in mente, HK87, che è un'enorme citazione bellissimo a Kotor, al videogioco, perché in quel videogioco c'era l'AKHK47, ok? Ed è un grande omaggio, in pratica una versione successiva di quello che avevamo visto in Kotor, molto bene, uccide anche quello, sono finiti tutti, anche questo è tutto molto classico del western, su dal tetto spane, cade, ci sta, e all'interno vediamo un terzo momento bomba, il primo è l'arrivo di Ahsoka che è stratosferico, il secondo è il nome di Grogu, scopriamo come si chiama quel cacchio di nanetto, quello ricchi e verdi tenerissimo, dolcissimo, che qui è eccezionale, e il terzo arriva adesso, che è mostruosamente potente, forse una delle più potenti, perché apre lo scenario molto di più di quanto già era aperto, cioè in pratica lei, Ahsoka Tana, aveva già chiesto dov'è il tuo padrone, ma in automatico, quasi in automatico, almeno per quello che mi riguarda, io ho detto sarà Moff Gideon, anche perché questo magistrato è collegato alla guerra dei cloni, ed è, lei è diventata molto ricca, aiutando, non si capisce in che modo, nella costruzione delle astronavi dell'impero, per cui, insomma, è un'armatrice se vogliamo, tra l'altro il suo abito ricorda molto, ancora una volta, quello di Griff della puntata prima e quello di Conte Duco, con questi due medaglioni, con questa catena, per cui ritorna questa sorta di, 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 di altolocati, di fasce di persone altolocate, conti, magistrati, e vi dicendo, anche questo molto figo. Nel più bello, a Sokka gli dice dov'è il tuo padrone, e io ero sicuro che dicesse Moff Gideon, e gli dice il gran ammiraglio Throne, e lì io sono esploso completamente, perché dire il grande ammiraglio Throne vuol dire anche Ezra, perché se vi ricordate alla fine di Rebels, Ezra si sacrificava, tra virgolette, insieme all'ammiraglio Throne, con queste, non mi ricordo, credo che fossero questa sorta di balene che potevano viaggiare nell'iperspazio, e si davano, tra l'altro erano dentro questa nave, non lo ricordo bene, collegata a queste balene, e questa nave aveva i vetri rotti, per cui in qualche modo potevano essere morti, ma non si sapeva, anche perché alla fine di Rebels, a Sokka, Sabine, e se non ricordo male, Bo-Katan, non vorrebbe una cazzata, o Rex, vabbè, non me lo ricordo, vanno alla ricerca appunto di Ezra, per cui questo significa tanto, molto bene. Questa mega esplosione vanno alla fine, lui gli sta per riportare Grogu, perché l'accordo era stato questo, lei gli dà comunque l'asta, la staff, eccetera, eccetera, ma alla fine lei dice, io non posso prenderlo, perché è troppo legato a te, tu non gli dici come se fossi il padre, però si capisce, che c'è un legame veramente paterno tra i due, padre e figlio, in maniera enorme, in questa puntata lo percepiamo ancora di più. Detto questo, lei però sgancia la bomba finale, e gli dice, l'unico modo per poterlo addestrare, per farti aiutare da qualcun altro in grado, che può essere un altro Jedi, deve andare su Titan. Titan è un pianeta, che era sconosciuto nel Legends, e che abbiamo visto in alcuni fumetti di Dottor Afra, era abbastanza importante tra l'altro, e nei fumetti Legends è praticamente la culla della forza dei cavalieri Jedi, ecco, questo è un pianeta con varie piramidi fluttuanti, una roba veramente notevole, e gli dice, cioè, gli fa capire praticamente che non ci sono rimasti tantissimi Jedi nella galassia. Ma fermiamoci un attimo, perché in teoria lei e Luke sono gli unici Jedi, ma ci sono anche due che mancano l'appello. Uno è Ezra, e l'altro è Cal Kestis, Cal Kestis che abbiamo già nominato in queste live con Empira, che Cal Kestis, altro non è che il protagonista di Jedi Fallen Order, di cui non sappiamo nulla. Ora voi direte, eh sì, ma Ezra non è un Jedi, eh sì, ma neanche Cal Kestis ha mai finito? Ok, siamo d'accordo, ma c'è un grande però, se a sua Catano è The Jedi, che in realtà non lo è, evidentemente anche gli altri sono The Jedi, per cui è una facilitazione per descrivere questo gruppo di ex o quasi Jedi in una galassia in cui non ci sono più, va bene tutto, facciamo entrare tutto. Bene, molto bene, vi chiedo scusa per la mia dislessia di questa puntata, ve lo do nel saluto, ci vediamo venerdì prossimo, o sabato prossimo, a seconda di quando verrà caricata la puntata, tenete botta, perché questo episodio svolta completamente, a meno per quel che mi riguarda, completamente la serie in modo estremamente positivo. Un bacione, mi raccomando, che la forza sia con voi, e questa è la via, sempre e comunque.